Lo storico giuliese Sandro Galantini, sempre più internazionale grazie ai suoi studi, dopo essere stato citato per le ricerche sulla ex colonia Maltoni Mussolini di Giulianova negli atti del VI Congresso Internazionale di Storia delle Costruzioni, tenutosi a Bruxelles lo scorso luglio, Galantini conquista anche le Baleari per i suoi studi sulla storia del turismo sociale a Giulianova, una notizia che ha fatto piacere, che è anche motivo di orgoglio per il professor Galantini, che con le sue opere cerca di mantenere viva la memoria e il ricordo di un territorio molto importante. Ma già in precedenza i miei libri, alcuni dei quali tradotti in croato, sono stati selezionati e immessi nelle biblioteche di Ateneo di prestigiosi università estere, Yale, Cambridge, la Columbia University di New York e ancora la biblioteca bavarese in Germania, la biblioteca del British Museum a Londra, in alcune collezioni importanti bibliografiche presenti in Francia, nel CNR di Parigi. Sono evidentemente studi non solo di carattere storico, ma anche criminologici che sono stati pubblicati in passato e che stanno suscitando una grande attenzione da parte di ambienti scientifici internazionali. Recentemente il professor Galantini ha presentato la sua ultima opera. Un po' il racconto del nostro Abruzzo attraverso immagini e le sue poesie. Ecco, sì, questo è un libro particolare che ha carattere di unicità. Abruzzo, seduzione senza tempo, un'opera, una grande opera dell'editore Paolo De Siena con le fotografie di cinque tra i più importanti fotografi abruzzesi con questi testi poetici a corredo. La prossima presentazione si terrà a Teramo, credo nel mese di gennaio e poi una serie di presentazioni all'interno dell'Abruzzo e anche fuori perché è un libro bello, è un libro che racconta in maniera poetica attraverso le immagini e i testi questa nostra terra, questa nostra regione che ha bisogno di tutta l'attenzione possibile un'attenzione che speriamo possa veicolare nella nostra regione un numero sempre maggiore di turisti, di appassionati della natura, dell'arte delle tradizioni e dell'enogastronomia del nostro Abruzzo. Grazie a tutti.